di fatto si tratta di se consideriamo l'ambiente come condivisione è un punto fondamentale noi dobbiamo riuscire a trasmettere la qualcosa che poi è istintivo nelle giovani generazioni l'idea di vivere di condividere qualsiasi cosa facciamo e quindi in questo senso anche rispettare i beni della natura è qualcosa che ci riguarda non soltanto come individui ma proprio come collettività perché tutto la nostra proiezione di vita non può essere assolutamente ridotta al nostro interesse individuale e soprattutto al nostro interesse immediato siamo quello che ci hanno lasciato e dobbiamo essere anche quello che lasceremo